amici ma soprattutto gli amici bianconieri buonasera avete visto ragazzi le cose serie quale sono queste sono le cose serie questo questo è quello che ci regala il prete lo chimico auguste priolo siracusa questo politici di merda stra bastardi stra figli di puttana che non sapete dove infilarvi i soldi questo è quello che ci regalate questo il buco nell'ozono il riscaldamento globale quella la e poi e poi e poi e poi permettete questa questo inquinamento bastardo questo inquinamento non si vive più in quelle zone ragazzi non si vive più la puzza è impressionante la puzza per non dire per non dire quello che c'è poi oltre la puzza quello che succede che bastardi che bastardi ma volete volete dire qualcosa per questo ma no ma di fronte a un rigore ma di fronte a un continuo bladerare per arbitri e per puttana devai vuoi mettere in profondo queste cose vuoi mettere david ma stai scherzando stai scherzando questo questa oggi 13 e 30 bruciava la canna fumaria bruciava bruciava e poi e poi respiriamo e poi respiriamo bastardi bastardi non solo ma non solo cornuti e mazziati perché poi la benzina te la fanno pagare anche per il prezzo intero dove ci inquinano ci intossicano ci distruggono 360 giorni l'anno 365 giorni l'anno 365 giorni l'anno day of day ma qui bisogna veramente scendere in piazza qui un uragano spazzare tutto un uragano un uragano spazzare è vero e dal lavoro è vero dal lavoro ma ci sarebbe stato lavoro anche se in quella zona ci fosse stata una bella bonifica e se fossero stati alberghi piscine e infrastrutture turistiche uno scorcio di costa meraviglioso neanche i pesci più ci crescono ormai non ci riemergono le banderine dei ricci sono con la con con i ricci sono con la banderina della lucoil i ricci se tu vai rimerci non so se neanche se riemergi trovi i ricci con la banderina della lucoil con la banderina non si può passare in estate in estate oppure quando tu magari vuoi abbassare il finestrino non in quel dove c'è la lì c'è la sasol la puzza è incredibile la puzza è la puzza è incredibile incredibile continuiamo quello è uno scorcio di costa ragazzi è meraviglioso stupendo stupendo ma io vi ho fatto vedere un pezzetto è tutto 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 e poi ci sono le persone che a maniera di ragusa si vanno a fare a maniera di melilli si vanno a fare si vanno a fare i bagni porca buttata l'acqua la è anche calda anche calda con questo sono le cose serie da prendere andare la e sfasciare tutto e sfasciare tutto e sfasciare tutto ma loro si riempono i soldi e le tasche di soldi si riempiono essere sbattono i coglioni si fanno i loro mandati e poi bye bye oggi mi sono preso una collera da morire da morire quando sono passato ho visto quella fiamma quella puzza quella fiamma meditate gente meditate